Morì uno dei miei più cari amici e io non piansi. E dico ma come mai una cosa così terribile non mi fa piangere? E ho pensato sai perché? Perché io mi sento uguale a lui. Cioè lui è morto e io sto per morire. Quindi siamo pari che lo pianga a fare. Con questo sapienziale disincanto ha attraversato il suo secolo di vita che avrebbe compiuto il prossimo 3 ottobre Raffaele La Capria. Io sono uno scrittore e basta. Poi sono napoletano ma dopo. Premio strega nel 1961 con Ferito a morte, suo secondo romanzo e poi il Campiello, il Viareggio, il Grinzane Cavour. Narratore prolifico, intellettuale, appassionato poteva vantare di essere il solo autore a cui la Mondadori ha dedicato due meridiani. Il primo per raccogliere le opere fino a 80 anni il secondo per la sua successiva produzione. Come due sono state le epoche in cui la Capria divideva il tempo vissuto nella propria esistenza e dalla sua patria. L'età della trasparenza che è prima della guerra è l'età invece dell'inquinamento e della profanazione che è venuta dopo. I peccati della città ricadono pure su di noi.